Gli amici di Trigger Mike sono ancora a piede libero. No, 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 firmo, firmo! La passeggiata la facciamo dopo. Ehm, comunque, stanno sparando alla brava gente che cerca di portarci i rifornimenti. Puoi dare una mano? Ehi, alla larga! Attenzione, nemici in arrivo. Attenzione, scorte sotto attacco. Non dovete farmi accacciare! La devo ricaricare! Attenzione, nemici in arrivo. Attenzione, scorte sotto attacco. La fortuna è dalla nostra parte! Non c'è nemmeno sfida! Occhio a quell'arma! Attenzione, nemici in arrivo. Una passeggiata! No! Non mi vede quella ragione! No! 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 Cibo, medicine, munizioni e crocchette Tu sì che ci sai fare, agente Ti ringrazio io, ti ringrazio Gips Bay Ti ringraziono Charlemagne e i suoi amici Natasha, Julio e quel piccolo schnauzer vizzarro di nome Brutus Tutti quanti Sì, ciao 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 Ciao